piccoli incubi uno perchè non voglio fare due perchè non mi piace e non ce l'ho nemmeno costa tipo 40 euro quanto costava? non mi ricordo più quel che so è che voglio fare Little Nightmares 1 perchè è quello che mi è piaciuto di più e tra l'altro devo seguire la storia vi dico già una cosa non so niente di questo gioco lo sono seguito da Marty VJ cominciamo sei mia madre è molto offuscata la lista quindi ti assicuro che non ho preso 4 nel compito di matematica quindi noi siamo si ma non si vedo un ca- e si il suo nome ma posso accendere sta roba qualche tasto no? beh ok ho premuto F e mi ha dato la luce come le apro gli oggetti devo vedere i tasti si ma per aprire e fare cose ah sempre sempre i tasti sinistri del mouse però questo posto non è che mi piaccia molto oh queste catene sono giganti cioè il gioco mi fa svegliare in un posto strano e non mi da alcuna spiegazione si però l'ho visto una simietta è una simia no non è una simia direi me la porto con me sei la mia adorata moglie posso spaccarla sta roba oh che ho fatta ecco c'è lì un condotto eh eh ma po- oh ok ho capito adesso come ci si arrampica tasto sinii signore le serve una carta igienica? guarda che serve per raccogliere tutto il ketchup tutto il ketchup serve dobbiamo aprire la porta ma mi sa che devo prendere la sedia ok ora dovrebbe andare bene vai oh ce l'ho fatta per aprire una porta ci ho messo secoli qua c'è sangue e non mi piace e io ci cammino sopra e questo è bello non mi piace questo frigorifero c'è qualcosa qui? siiii posso andarci ma devo fare un parkour ma dai eee no mi sa che allora non è la parte giusta oh posso aprirlo? oh mio dio ero io che sbagliavolato io in pratica stavo provando ad aprire il frigo verso destra verso sinistra eh ti vedo eh adesso soltanto cadi porca vacca sono tanti porca una leva una leva ieeeh che è beh si c'è il colore nero ti dona eeeh sono tanti sono tanti sono tanti aiuto vai 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 che cosa c'è qui? io adesso ti vengo a prendere chi è? mora forco non è che io devo andarci a tempo cioè quando non c'è la scossa io ci vado asper dietro alla porta la carta igienica comunque si sta rivelando l'oggetto più utile del gioco ma secondo me lo potevo fare anche a tempo però vabbè eh c'è un cassetto qui ah si è riaccesa la corrente nooo un altro nooo asper non è che è a tempo che allora sto dicendo troppe volte a tempo adesso mi voglio far capire quando tiro la leva io devo andare velocemente anche verso l'altro cancello vai 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 no ho già perso troppo tempo dai 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 poi si ci sono tante porte chiuse che io non desidero aprire mannaggia un occhio e non posso stare nella luce perché un po' si accecava vabbè noi stiamo nella luce ok vediamo appena si gira io vado subito qui eeeh c'è l'ognomo no io voglio andare a liberare l'ognomo non scappare dai io ti voglio aiutare un giorno posso ritornare ok posso ritornare indietro eeeh ok no mannaggia mannaggia io che caro mannaggia chi è? chi è? ma è di nuovo quello di prima? ammazza vado subito via 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 scappa scappa via non mi sembra tanto rassicurante siccome tra l'altro si trova in un posto sconosciuto da tutti che ovviamente il sottoscritto ci è finito boh chi è? ho fame ci sarà qualcosa da mangiare qui no? allora siccero ti cogli... da... dammi... dammi tutto bravo mangia bene ora sappiamo che sic può anche avere fame ma che sono tutte ste gabbie? no dobbiamo arrabbicarci sulle gabbie è fantastico perchè possono crollare da un momento all'altro yeh ma io sono venuto qui a fare che almeno che non mi debba arrabbicare ma dai mi devo arrabbicare sulla catena una leva e penso di sapere quel che fa ok spegniamo la correre oh mio dio oh mio dio ho capito vai COSI eeeeeee pfff vabbè ok no si che l'ho fatta? mamma mia fantastico ok facciamo veloce a prescindere vai vai cosa mi porta su? mmm va bene si ma tutto sto casino per ritornare giù? no no di nuovo voi no 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 aiuto ah siamo ritornati al punto di prima perfetto ah ti fa diventare pietra cioè ti fa diventare una pietra non è che t'accecca ti fa diventare una pietra e devo usare questo ok piano 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 vai piano piano bene ce l'abbiamo fatta perfetto ok no cavolo aiuto ah devo usare questa no ok siamo in un altro capitolo penso però lo faremo nel prossimo episodio perché sto veramente perdendo troppo tempo a fare le cose su questo gioco è mi più c'è il che l'anno in l'anno ti ci lo ti 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 Grazie a tutti.